In questo 9.75, Russe e Romene, ora impegnata la Marinescu, Alexandra Marinescu alla trave, hanno dato vita soprattutto nella prima metà della competizione ad un avvincente duello, poi le Russe sono riuscite a prevalere e nella gradatoria finale hanno fatto totalizzare negli esercizi liberi 189 punti e 625, le Russe 192 e 775, le Romene 189 e 625, mentre le Azzurre si sono fermate a 183 e 875. Sensibile il distacco delle Azzurre, quasi 9 punti, dalle Russe vincitrici del confronto. Alla trave, dopo la Coceto vale parallele, c'è la Romena Marinescu, per lei 9.675 il punteggio in questa prova, un leggero sbilanciamento ma al termine di una serie di combinazioni altamente difficili, quindi la Buono per la difficoltà, ha praticamente annullato.